La scuola di Possilipo è stata un episodio internazionale che ha messo insieme una forte scuola locale di pittori napoletani e del regno con gli stranieri presenti a Napoli per il Grand Tour e ha portato la pittura alla sperimentazione del plein air, cioè pittura dal vero, esclusivamente dal vero, totale, quindi un nuovo sentimento della natura, una nuova interpretazione dei luoghi visti e sentiti, la scoperta della luce, soprattutto da parte degli stranieri del nord Europa e quindi si creano i presupposti per una pittura nuova, una pittura riformata che non è più quella che supera il vedutismo europeo tardo-settecentesco, supera anche le linee generali del Grand Tour e poi arriverà, sarebbe arrivata poi alla riforma del vero, totale, cioè il realismo. Nella cappella palatina del maschio angioino è stata inaugurata la mostra dedicata alla scuola di Posillipo, quel fortunato episodio di pittura paesaggistica che ad inizio ottocento accompagnava il Grand Tour e gli scambi fecondi con l'arte internazionale. 75 opere da raccolte private che immergono lo spettatore in un viaggio nella natura e nell'atmosfera di Napoli e della Campania, da Pitolo a Gigante, a Chedrin, Verblut e Dall, tutti conquistati dalla bellezza del clima, dai paesaggi stupendi e dalla forza della luce intorno al golfo. Per la quarantesima edizione di estate a Napoli organizzata dal Comune, la mostra rimarrà aperta e ad ingresso gratuito fino al primo ottobre. Io credo che sia veramente una cosa di estrema importanza, è una mostra che credo risponda a un grande desiderio di tutti i cittadini di Napoli, una mostra di questa completezza, di questa bellezza, di un aspetto così internazionale della vita artistica di Napoli, mancava credo ormai da circa un secolo, dal 45, all'immediato dopo guerra. Rilancio ancora una volta il grande ruolo che Napoli ha avuto in tutte le estetiche dell'Ottocento, del Novecento, delle avanguardie artistiche che qui hanno avuto le prime fasi dell'esplorazione di nuovi linguaggi. Per noi è anche un po' una risposta di orgoglio perché spesso si tende ad oscurare questo ruolo di Napoli. Con la luce di Napoli noi siamo in grado anche di contrastare ogni aspetto di racconto di Napoli fondato su stereotipi, pregiudizi, sottovalutazioni. Dal punto di vista culturale questa era e resta una capitale universale della cultura. Grazie a tutti.